Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Non tace mai, l'incubo continua, torna a farsi sentire con i suoi sermoni guerra fondai e con le sue epifanie inattese, in verità, il guitto Zelensky, il guitto dei guitti, quello che, riprendendo il nome del grande poeta Guitone d'Arezzo, abbiamo definito Guitone di Kiev. Il Guitone di Kiev, Zelensky, attore nato, con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington, se non di Hollywood, torna a farsi sentire e sempre lo fa, di fatto, celebrando la guerra, perché di questo si tratta. Mai una volta che invocasse la pace, la difesa dei più deboli, le ragioni della diplomazia, giammai, sempre e solo propugna la guerra, sempre e solo recita il ruolo che gli hanno scritto a Washington, evidentemente che Savasandir è il ruolo di guerrafondaio, di marionetta che deve portare guerra contro la Russia, trascinando nell'abisso l'Europa tutta e ci sta peraltro riuscendo con inatteso successo e con infiniti lutti addotti a tutti i popoli d'Europa, oltre che naturalmente al popolo ucraino che è quello che sta patendo di più, perché il guitto, anziché battersi in difesa del popolo ucraino, lo sta sacrificando sull'altare dell'imperialismo della Nato. Ebbene, il guitto Zelensky, così leggo su Rai News, 17 febbraio 2023, Zelensky, se il mondo temporeggia avvantaggia Putin, se vince, Mosca punterà armi su paesi vicini. Quindi, secondo il guitto, la Russia vorrebbe prendersi il mondo intero e quindi quella dell'Ucraina diventa una battaglia di civiltà, di resistenza contro la Russia che vuole prendersi il mondo intero. Questa è la narrazione molto raffinata, devo dire, che propone il guitto Zelensky, ma quel che è peggio è che c'è gente che lo sta ad ascoltare, anzi, di fatto viene trattato in guisa di profeta, di vate, di riferimento ineludibile. Ecco, direi proprio questo, che la cosa più surreale è che il guitto Zelensky, guittone da Kiev, come dicevamo, viene ascoltato come voce attendibile, di più come un oracolo, viene scambiato per un oracolo, o per un oracolo delfico, anzi, in questo caso, per un oracolo di Kiev, e viene assecondato. Ora, mi permetto di far notare una cosa ovvia, peraltro, a chi sia ancora normodotato e portatore di logos. Putin non sta cercando di invadere il mondo, grazie al cielo. Semmai è la Nato che dagli anni 90 sta cercando di farlo e di occupare gli spazi anche dell'ex Unione Sovietica. Questo è il punto fondamentale. Quindi il principale nemico oggi, deve essere chiaro per gli equilibri del mondo, non è Mosca, ma è la Nato. Ripetiamo l'ovvio, ma variando un noto proverbio, anche l'ovvio vuole la sua parte. L'ovvio è esattamente l'opposto di quello che dice l'oracolo di Kiev.